Buonasera, benvenuti a 8 e mezzo, buonasera, benvenuta Serena Dandini, iscrittrice e conduttrice televisiva che ci manca molto, buonasera Massimo Giannini, direttore della stampa, buonasera Lucio Caracciolo, direttore di Limes, buonasera Antonella Viola, immunologa dell'Università di Padova, buonasera Marco Travaglio, direttore del Fatto Quotidiano. Allora il caso Draghi Conte continua e si inserisce però in un quadro generale sempre più preoccupante dalla guerra all'inflazione alla nuova ondata Covid, la crisi energetica, avremo di che parlare tra poco. Marco Travaglio Oggi pomeriggio Draghi e Conte si sono parlati per darsi un appuntamento a lunedì prossimo. Siccome tutto questo caso è esploso per un'intervista che voi avete pubblicato sul Fatto Quotidiano, in serata Di Maio ha detto che è completamente surreale discutere di Grillo, Draghi, se si sono parlati, se si sono mandati messaggini. Trovava in un momento storico così difficile surreale questo dibattito. Avrei voluto vedere se fosse stato lui il leader dei Cinque Stelle e se il Presidente del Consiglio lo avesse scavalcato chiamando il garante del suo partito che non ha alcuna voce in capitolo nella linea politica. In realtà questo è un caso che viene così svilito a una ripicca personale, a un pettegolezzo, a una voce. Questo è un caso politico enorme, istituzionale enorme e che dipende da quello che Grillo ha dichiarato in varie circostanze durante la sua visita a Roma. Prima a una decina di suoi parlamentari, poi al Presidente della Camera Fico, poi al Presidente del suo partito Conte, poi al sociologo De Masi, dicendo a tutti, che Draghi lo chiama continuamente. Inizialmente lo chiamava per ammorbidire la posizione dei Cinque Stelle che erano in contrasto su varie cose, per esempio l'anno scorso sulla riforma della giustizia. Poi gli ha detto di mandare via Conte da leader, nonostante che fosse stato eletto due volte dagli iscritti. Ma tutto ciò per dire? Sempre nel racconto di Grillo, sempre nel racconto di Grillo Draghi gli avrebbe detto di seguire la scissione di Di Maio per portarsi via quelli che erano rimasti e lasciare Conte da solo. Questo lo ha detto Grillo a vari testimoni. Se c'è stata una figuraccia internazionale è dovuta al fatto che invece di smentirla non appena è uscita sul nostro giornale e anche in pagina interna sulla stampa di Massimo Giannini. Draghi ha aspettato una ventina di ore per farla smentire dal suo ufficio stampa, nemmeno da lui, e poi ha aspettato 42 ore per smentirla con la sua faccia nella conferenza stampa di ieri, tra l'altro in maniera molto poco convincente, quando ormai non ci credeva più nessuno alla smentita, perché una smentita del genere durante un verticinato se le cose fossero false la fai di prima mattina in modo da dedicarti per tutto il resto della giornata alle questioni importanti che stava trattando il verticinato. Massimo Giannini, ma è una tempesta in un bicchier d'acqua come si suol dire o c'è qualcosa che ancora deve essere chiarito, fermo restando che credo che il Presidente del Consiglio Draghi abbia fatto qualche errore diciamo di comunicazione in tutta questa vicenda, mi sembra, però insomma se è così deragliata da qualche parte qualcosa non ha funzionato. E comunque Draghi e il suo governo devono affrontare una serie di questioni ben più importanti o no? Dall'inflazione, oggi l'ultimo dato è che abbiamo un'inflazione all'8%, da 36 anni non eravamo a questi livelli, le conseguenze della guerra all'Ucraina, una nuova ondata Covid? Che ci siano priorità molto più pressanti rispetto a questo caso è sotto gli occhi di tutti, le ultime notizie di oggi ci restituiscono una situazione, poi ne parlerà Lucio Caracciolo con molta più sapienza di me, ma insomma la guerra peggiora, non è che si ferma, peggiora, peggiora. I dati economici sono drammatici, anche dal punto di vista energetico oggi è stato annunciato uno stop di 11 giorni delle forniture di gas del gasdotto Nord Stream, per cui le ricadute saranno pesanti, quindi è chiaro che le priorità sono altre. Dopodiché una tempesta in un bicchier d'acqua fino a un certo punto, perché il caso politico c'è tutto, non c'è dubbio che ci sia tutto, non c'è dubbio che è stato mal gestito a tutti i livelli, compreso il Presidente del Consiglio che anche secondo me avrebbe fatto bene a smentire subito la mattina quando è uscito il Fatto Quotidiano e anche la stampa, perché anche noi avevamo la stessa notizia, invece hanno lasciato passare troppo tempo e quindi naturalmente il caso è gonfiato. Dopodiché, detto tutto questo, il problema vero, al di là del fatto se sia realistico che Draghi possa aver detto quelle cose oppure no, il tema che rimane è che cosa vogliono fare i 5 Stelle di Giuseppe Conte, perché questo è soltanto l'ennesimo incidente, qui il problema è capire se vogliono continuare a sostenere questo governo oppure se ne vogliono uscire. L'unica cosa che non possono fare e che secondo me, proprio alla luce delle emergenze che ci sono, non è gestibile, è continuare a stare con un piede dentro e un piede fuori. Se questo è uno strappo insanabile, e lo vedremo, avranno ancora da chiarirsi, visto che si vedranno lunedì prossimo, allora siano conseguenti e escono dalla maggioranza, prendendosi le responsabilità del caso. Come sappiamo, adesso ci arriviamo, ma questo comporterebbe tanti e vari problemi. Non c'è dubbio, crisi di governo, sulla base di quello che ha detto ieri Draghi e di quello che pensa Mattarella, io penso che sarebbe crisi di governo. Sicuro. Lucio Caracciolo, anche perché Ricoletta in serata ha ribadito quello che aveva già detto ieri, che non c'è un governo senza i 5 Stelle e non lo dice solo lui. Ma Lucio Caracciolo, Grillo sembra sostenere a questo punto Conte perché oggi sul suo blog ha postato un articolo in cui si parla di traditori. Ovviamente si riferisce a Di Maio, che come sapete adesso ci ritroviamo nella nuova versione centrista, non più grillina. In realtà sul blog di Grillo c'è il ritratto di un perfetto traditore. Stiamo parlando di un movimento moribondo che si sta dando dei colpi abbastanza insensati, come se avesse ancora effettivamente la capacità di determinare il futuro di questo Paese, cosa che non è. Ciò detto è chiaro che non è assolutamente immaginabile che in una situazione del genere si possa arrivare a una crisi di governo. Sarebbe veramente uno scandalo, ma sarebbe totalmente irresponsabile, quindi lo escluderei. Però certamente tutta questa campagna intorno a questa vicenda ci fa fare diversi passi indietro, anche come credibilità. Anche come credibilità. La figura anche di Draghi che durante il vertice si mette lì a telefonare. Da solo al telefono, immagine veramente desolante. Serena Randini avrai visto questa foto di Draghi seduto sul divanetto al Museo del Prado. Ha fatto vari meme. Insomma, diciamo, non abbiamo fatto di sicuro una bella figura internazionale. E posso permettermi anche di dire che è un vero peccato che tu non sia in onda con uno dei tuoi brillanti programmi di satira, perché mi verrebbe da dire avresti l'imbarazzo della scelta. Guarda, ti devo dire, mi scusi noi direttori. Allora, questa scena italiana non è che è di grandissima ispirazione. Va bene per un meme, per qualcosa sul web, però insomma per la satira c'è molta pochezza. Anche la satira ha bisogno di un certo respiro. Non so, se fossi in onda adesso forse parlerei dell'ipocrisia occidentale che ha svenduto i diritti dei rifugiati politici kurdi per far annettere alla Nato Svezia e Finlandia. Oppure parlerei, farei uno sketch su sei giudici che hanno legiferato sul corpo di milioni di donne americane. Per esempio, quello potrebbe essere un bello spunto di satira. o anche, rimanendo nel nostro paese, visto che ha compiuto 44 anni, farei un... Somma, la satira si fa sulle cose serie. Esatto. Parlerai anche della legge sull'aborto in Italia che ha compiuto 44 anni ed è disattesa e non applicata. Per esempio, quello potrebbe essere un argomento molto interessante. Però, ecco, sì, si potrà fare una battutina, però ecco, sta telefonata, ha telefonato, non ha telefonato, mi chiami tu. Beh, perché come si dice... Buonasera dottore. Come si dice, ormai la realtà politica ha superato la satira, è andata al di là e quindi la satira... Sì, però diciamo, anche la satira ha diritto. Eh certo, è una cosa nobile. Tra l'altro ricordiamo che stasera Biden ha detto, riunendo i governatori degli stati democratici, ha detto che sono a rischio a questo punto le nozze gay e anche il diritto ai contraccettivi, questo per dire che... Non si potranno portare neanche i cani bicolori fuori per strada, tra poco, non so. Eh, non lo so. Vedremo. Di certo da monitorare. Marco Travaglio. Voglio chiederti, qui ci siamo chiesti, tornando ai 5 Stelle, escono o non escono dal governo, Di Maio oggi ha ripetuto che sarebbe irresponsabile una crisi in questo momento e questo è sicuramente vero e siccome Draghi ieri è stato inequivocabile nel dire che non c'è un governo senza i 5 Stelle, ora il tuo giornale sostiene a spada tratta invece la linea dei 5 Stelle che devono lasciare il governo. Pensi che entro l'autunno se ne andranno? Una idea, io non sono abituato a dire quello che penso sulla base di quello che credo che facciano gli altri, io dico quello che penso, io penso che questo governo non sia quel miracolo che viene dipinto, credo che se cadesse non succederebbe assolutamente niente perché torneremo a votare, in Francia sono andati a votare, non è successo assolutamente niente nonostante che non si sappia ancora bene che governo abbiano, purtroppo la guerra va avanti a prescindere dal governo italiano o dal governo francese, non credo che sia possibile che il Presidente del Consiglio dica che non c'è governo senza i 5 Stelle perché se il governo ha la maggioranza e in questo momento se escono i 5 Stelle grazie alla scissione di Di Maio quel governo ha la maggioranza non si capisce come faccia a cadere il governo, Mattarella aveva già detto che l'ultimo governo della legislatura era il Conte 2 dopodiché c'erano le elezioni, ci abbiamo creduto e infatti abbiamo fatto molto male perché era una bugia, dopo il Conte 2 è nato il Draghi 1, quindi sono tutte balle, se i 5 Stelle si ritirano il governo ha la maggioranza e se Draghi vuole prendersi la responsabilità di mandarci alle elezioni sarà lui a prendersela ma in questo momento il governo può fare a meno dei 5 Stelle, ripeto noi possiamo ridere fino allo spasmo, fino al crepapelle di quello che sta succedendo ma purtroppo non sono questioni così ridicole, sono questioni politiche, si sta in un governo se quel governo fa qualcosa che piace alle forze che ne fanno parte, altrimenti non c'è una ragione al mondo per cui una forza politica deve stare in un governo che fa tutto il contrario del programma di quella forza politica e in più si diverte ogni giorno a demolire una riforma che ha fatto quella forza politica, oggi tutte le forze della maggioranza con il voto contrario dei 5 Stelle hanno dato un'altra mazzata al reddito di cittadinanza, io mi domando ma per quale motivo dovrebbero stare in un governo dove i cosiddetti alleati si divertono ogni giorno a demolirgli le loro riforme, ma guardate che i governi, la politica, lo diceva già ieri sera Padellaro, è esattamente questo, far valere i propri voti per ottenere delle riforme che facciano parte del proprio programma, se questo governo è l'antitesi del programma dei 5 Stelle e in più si dedica ogni giorno a distruggere quello che hanno fatto nei tre anni precedenti, ma dove sta scritto che debbano stare lì dentro? Ma siete soltanto voi o alcuni di voi che avete questo amore per Draghi tale per cui c'è il re sole intorno al quale gira tutto il resto e tutti devono inginocchiarsi ogni giorno davanti al re sole, la politica in una democrazia parlamentare è tutt'altra cosa, non esiste il re sole, siamo una democrazia parlamentare e ogni partito bada agli interessi dei suoi elettori e al proprio programma elettorale e quindi se vogliono buttare fuori i 5 Stelle lo stanno facendo molto bene e credo che ci riusciranno, ma il governo potrà restare tranquillamente in piedi. C'è in questi termini la questione Massimo Giannini e perché dovrebbero stare i 5 Stelle in un governo che demolisce tutte le sue riforme e se andrebbe alle elezioni non succederebbe niente in caso di caduta di governo e voto? Allora intanto questo governo è nato con una formula molto precisa costruita dal Presidente della Repubblica Mattarella, un governo di unità nazionale con dentro tutte le forze a prescindere da Fratelli d'Italia che in quel momento hanno aderito e hanno accettato quell'impianto lì, un governo quindi del Presidente che aveva queste caratteristiche, la maggioranza era quella e non poteva che essere quella, quindi questo è un aspetto poi dopo le cose possono cambiare nel corso del tempo, le formule si modificano, per carità nulla è intangibile, però è da lì che si è partito, quindi ha un senso dire questa maggioranza sta in piedi se è quella con la quale siamo partiti all'inizio di questa avventura del tutto anomala, su questo siamo perfettamente d'accordo, dopodiché però aggiungo un'altra cosa, Travaglio ha ragione ma la domanda andrebbe fatta ai 5 Stelle, solo a loro, nessuno li obbliga a stare dentro questo governo, quindi se loro ritengono che come dice Marco, finora Draghi ha distrutto tutte le riforme che loro hanno fatto, poi insomma su questo io ho idee un pochino differenti nel senso che le grandi riforme che loro hanno fatto sono state fondamentalmente il reddito di cittadinanza, la riforma della giustizia sulla quale poi si è arrivati, la maggioranza è arrivata ad una condivisione sia pure malmostosa dell'impianto della riforma cartabia, quindi alla fine sono stati nella maggioranza fino adesso, se ritengono che ormai il dado è tratto e non ci si può più stare, beh prendano una decisione, escano con tutto quello che questo determina, vedremo poi se, è vero che hanno i numeri, certo i numeri sarebbero risicati nel frattempo però non possiamo non ricordare, e questo è il vero punto politico, che il terremoto è successo tutto dentro i 5 Stelle, se se ne sono andati 61 parlamentari con Di Maio è evidente che lì dentro non sono tutti d'accordo, ed è il motivo per cui questa ambiguità va avanti, sono d'accordo con Travaglio, è un'ambiguità che deve finire, però questo dipende solo da Conte, nessuno lo deve cacciare, è lui che deve decidere se vuole starci ancora dentro oppure se vuole uscire con tutte le conseguenze del caso. Lucio Caraccio, lo dicevamo che questo governo ha, Draghi ha tante gatte da pelare, abbiamo fatto un elenco prima, per cui quando Travaglio dice ma non succederebbe assolutamente niente con una crisi di governo si andrebbe al voto, ci farebbe bene andare a votare, ricordiamo anche che il quadro politico italiano vede il governo messo come messo, il centrodestra che non riesce neanche a organizzare un incontro tra Berlusconi, Salvini e Lameloni, quindi diciamo è un quadro politico un po' anche allarmante, perché poi dopo chi governerebbe questo paese che deve affrontare 7 mila emergenze? Ma chiedo scusa, ma se questo governo ha la maggioranza perché dovrebbe dimettersi? Cioè in base a quale principio? Non riesco a capirlo. Perché Draghi ha detto senza i 5 stelle, il governo non è questione di senza i 5 stelle o senza questo o senza quello, se un governo ha la maggioranza deve governare, specialmente in una situazione del genere, non vedo quale possa essere la giustificazione per non governare. Lucio però c'era una maggioranza che è quella costitutiva di questo governo, poi si può decidere che si va avanti lo stesso, per carità, però che ci sia un vulnus rispetto al governo e alla maggioranza che ha... Vai avanti con il vulnus! No, no, ma per carità, non c'è dubbio, però bisogna capire quali sono i numeri che rimangono a quel punto, perché questo è un dato di fatto, ma con le sfide che abbiamo davanti è chiaro che non puoi governare se hai 10 voti di maggioranza e a ogni votazione ha maggior ragione, non ti puoi dimettere se hai la maggioranza, ho capito, ma ha maggior ragione non ti puoi dimettere se hai la maggioranza. Massimo! Ah no, un attimo, voglio sentire Serena Dandini, anche perché poi abbiamo un'altra tra le varie emergenze, abbiamo quella che probabilmente è già una nuova emergenza, quella del Covid, quindi vogliamo sentire anche la professoressa Viola. Serena Dandini, in questo quadro politico così frastagliato e variegato anche... Mi hai messo in mezzo, in una cosa tipo politica, la gioia di stare nell'ultima puntata è con tutti questi direttori, però sono un'opinionista, diciamo politica, prego. No, beh... Mi voleva chiedere? Che siccome il tuo ultimo programma era Stati Generali due anni fa e lì a proposito di leader c'era una magistrale imitazione di Sabina Guzzanti, di Giorgia Meloni. Ecco, tra i vari... Abbiamo visto che i leader, tanti leader politici hanno cambiato la guerra, ha fatto diventare Salvini pacifista, la Meloni è apertamente atlantista, Di Maio più draghiano di Draghi, insomma, e quindi la Meloni, siccome la Guzzanti faceva benissimo la Meloni, com'è cambiata? Lei e le sue idee? Non lo so, bisogna chiederlo a Sabina, comunque io non penso sia cambiata, io penso sia sempre la stessa. Forse adesso la faremo con le due anime, no? Deve conciliare l'anima quando è in Italia, che deve cercare di conciliare le varie anime della destra, quindi poi deve fare i comizi, ha imparato anche le battute, la simpatica, eccetera, così. Poi finalmente quando va all'estero, va nel club vacanze Vox, si libera e diventa a se stessa e finalmente tre, no? Vacanze Vox è il comizio in Spagna, dici? Esatto, club vacanze Vox. E lì finalmente non deve, no? Tenere tutta questa... che in Italia invece deve mantenere, perché adesso... Beh, anche a livello internazionale direi, perché se... Emanì è come un po' un club vacanze, lei si deve liberare da qualche parte, è sempre la stessa, però qua deve mantenere adesso una certa... Quindi la vera Meloni è quella di Vox? Sono tutte e due, io le farei due, a schermo a metà. Sono tutte e due Marco Travaglio, perché ricordiamo che il partito di Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, è secondo i sondaggi il primo partito e allora... Abbiamo parlato del governo, delle emergenze, se si dovesse avverare quello che tu in qualche modo, non dico auspichi, ma insomma, dici che farebbe bene al nostro paese, cioè andare al voto, molto probabilmente vincerebbe il centrodestra, anche se diciamo i tre leader sono molto rissosi e quindi se la Meloni è il primo partito, sarebbe lei la candidata alla presenza del Consiglio o no? Non ho idea, ho l'impressione che si stia lavorando a un altro schema che è molto simile a quello del 2018, due finte coalizioni che si presentano a fare teatro davanti ai cittadini per convincerli che c'è ancora una differenza fra la destra e il centro-sinistra e poi comunque abbiano votato gli elettori, i partiti draghiani che ormai sono diventati 15 o 16 con l'arrivo di quello di Di Maio si rimettono insieme e chiamano Draghi se ci sta oppure un simil Draghi, un surrogato, tagliando fuori la Meloni e probabilmente quello che rimane del Movimento 5 Stelle, questo è lo schema, poi naturalmente quando si fanno questi giochini a risico poi non sempre riescono, però è quello a cui si sta lavorando. La Meloni, dice ma gli italiani, il voto poi conterà qualcosa, spalmandosi sugli americani. Cioè se la legge elettorale non cambia, no Marco, loro a questi avranno il centro-destra si presenterà coalizzato anche perché loro litigano sempre nell'arco della legislatura, poi quando arriva il momento di andare a votare, bene o male, l'hanno già dimostrato, Berlusconi, Salvini e la Meloni si rimettono d'accordo e il cartello funziona, che poi durino nel tempo è altro discorso, però se arriva prima la Meloni e il centro-destra la maggioranza, chi è che li caccia fuori? Chi? Chi? Dove vedi questo? Io penso... I Draghiani ha detto. Eh ma i Draghiani... Io penso che di qui alle elezioni il partitone Draghiano lavorerà per fare la stessa cosa che ha fatto dentro il Movimento 5 Stelle con la scissione di Di Maio per far fuori Salvini o far uscire i leghisti Draghiani. Eh ma se questo accadrà vorrà dire che un pezzo di politica ritiene preferibile quella soluzione. Non credo che arriverà alle elezioni. Chi è il burattinaio di tutto questo? Io vorrei chiederti questo. Vorrei chiederti chi è il grande burattinaio? Perché sembra sempre che c'è una regia di tutto questo, no? Ma guarda che non c'è bisogno di burattinai, basta vedere quello che è successo in questi mesi Massimo. A meno che uno non abbia gli occhi foderati di prosciutto, lo vede qual è il gioco che si sta facendo. Ma viene teorizzato anche, eh? Cioè non è che è una cosa che avviene di nascosto, avviene pubblicamente. Abbiamo i grillini draghiani, quelli con Di Maio. Abbiamo i grillini, abbiamo i renziani draghiani, abbiamo i calendiani draghiani, abbiamo i forzisti draghiani. E adesso avremo presto anche i leghisti draghiani. Ma questo secondo te non dipende forse dal fatto che Draghi comunque viene visto come una risorsa da un pezzo del ceto politico? Non pensi che dipenda da questo? Se tra i grillini c'è stato un rilevante quantitativo di parlamentari che hanno deciso di andare con Di Maio perché vogliono sostenere Draghi, se la stessa cosa potrebbe accadere persino dentro la Lega, sappiamo che c'è un'anima draghiana anche dentro la Lega, se questo movimento si estende anche in parte al pulviscolo centrista, può darsi che ci sia anche quello. Forse vuol dire che Draghi è una risorsa o no? Domando, eh? Rapido, Travaglio? Per loro e i loro deretani sicuramente è una risorsa. Intanto bisogna chiedere a Draghi se è d'accordo, perché Draghi continua a dire che non ne vuole sapere, quindi stanno giocando a 3-7 col morto evidentemente. Perché fare una coalizione draghiana senza chiedergli prima se ha voglia di ritornare a Palazzo Chigi, già è una truffa. Seconda truffa. Se tutto questo gioco fosse dichiarato agli elettori, io sarei perfettamente d'accordo. Il problema è che questa cosa la diranno il giorno dopo, non il giorno prima delle elezioni. E che sarà così, Lucio? Il giorno prima faranno finta che c'è il centro-destra, il centro e la sinistra. Ma è possibile. È possibile, soprattutto penso che probabilmente quando voteremo, cioè non proprio domani, ci possa essere anche un quadro di offerta politica un po' più diverso da quello che c'è adesso. Non è detto che ci presentiamo con questi schieri, anzi è detto che non ci presentiamo con queste forze. Urge che torni con un tuo programma satirico, cara Serena. Effettivamente c'è molto materiale. Sui draghiani mi piace moltissimo, un po' come i vulcaniani, mi piace molto. È un mondo tutto da raccontare. È un mondo tutto da raccontare. Professoressa Viola, noi facciamo qui qualche battuta, ben sapendo e avendo... Per consolarci, così, per alleggerire. Per alleggerire, perché in realtà se parliamo per esempio della nuova ondata Covid, siamo nel mezzo di una ondata estiva del Covid, oggi i dati sono assai allarmanti. C'è un aumento dei contagi, dei morti, delle terapie intensive. Allora, per favore, ci vuole spiegare ancora una volta chi deve fare subito la quarta dose del vaccino, ovvero la seconda di booster? perché dobbiamo assolutamente dare qualche certezza, siccome solo il 20% di chi lo dovrebbe fare l'ha fatta. O bisogna aspettare il pan vaccino, che sembra una cosa come un dolce, il pan bianco. Cioè il pan vaccino a me piace da morire. Ecco, ma è il pan vaccino che appunto voi esperti ci spiegate che in autunno non avremo un vaccino che varrà contro tutte le varianti del coronavirus. Contro tutte le malattie, come diceva Battiato. Contro tutte le malattie. No, non sarà così, anche se oggi il ministro Speranza, che per la verità è sempre stato molto rigoroso nelle misure anti-Covid, però dice che per l'autunno ci aspettiamo un vaccino adattato alle nuove varianti e quindi avremo la forza necessaria per affrontare mesi più difficili. Ci dà qualche chiarimento? Fa di no con la testa, fa di no. Allora, il pan vaccino, quello contro tutte le varianti, c'è in corso una sperimentazione, Pfizer l'ha appena annunciato, però devono fare appunto la sperimentazione clinica, quindi se ne parlerà molto 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 più avanti. Quindi per il momento non ce l'abbiamo il vaccino contro tutte le varianti, quella sarebbe una cosa importante perché cambierebbe proprio la strategia. Noi adesso stiamo inseguendo il virus e non riusciamo a stargli dietro perché lui corre molto più veloce di quanto noi riusciamo a aggiornare i nostri vaccini. Per quanto riguarda il vaccino che arriverà a settembre, si tratta di un vaccino aggiornato nel senso che è un vaccino contro Omicron via appunto uno. Quindi la variante del gennaio scorso, siamo già alla 4 e 5, quindi io ho Omicron 5 e non è un'influenza o un raffreddore, è un po' più serio. Esatto, il problema è esattamente questo, cioè che è vero che i dati preliminari indicano che questo vaccino protegge e induce una risposta anche contro Omicron via appunto 4 via appunto 5, ma è una risposta anticorpale ridotta rispetto a quella che induce contro la variante originaria Omicron via appunto 1. e non sappiamo come continuerà a cambiare il virus che ovviamente continuerà a diventare più immuno evasivo, quindi non è pensabile. Anche il booster allora è vecchio? No, 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 però allora un attimo, il punto è che quindi questo vaccino arriverà a settembre, sarà l'ideale, ci risolverà la vita, non è detto, perché bisogna vedere intanto il virus come cambia e certamente quando arriverà ce lo faremo. in questo momento so che c'è confusione perché c'è una differenza tra quello che bisognerebbe fare e quello che si può fare. Cioè in Italia la quarta dose in questo momento è approvata, autorizzata dall'AIFA per le persone sopra gli 80 anni oppure per le persone sopra i 60 anni fragili, molto fragili. Allora, quando io l'altra volta da lei ho detto bisognerebbe farlo dai 60 anni in poi, poi il direttore dell'AIFA Magrini ha detto beh ma è certo che dovrebbe essere così e i medici dovrebbero essere flessibili. Cioè quando si presenta una persona di 70 anni che vuole essere vaccinata bisogna vaccinarla. Ecco, questo non è possibile nel senso che sì, a volte accade in questi giorni so che in molte regioni su insistenza di chi si presenta la vaccinazione viene fatta però naturalmente il medico si assume il rischio di quello che sta facendo. Serve quindi immediatamente un documento che normi questo e cioè che dica che effettivamente dai 60 anni in poi ci si possa vaccinare e io penso che arriverà nei prossimi giorni. Deve arrivare nei prossimi giorni perché se no altro che in ritardo. Professoressa Viola, ecco, i medici sono anche molto resti a prescrivere il farmaco più importante e più utile contro il Covid grave che è questo Paxlovid. abbiamo decine di migliaia di dosi ferme in qualche magazzino che scadranno in autunno e non viene prescritto pochissime volte questo farmaco. Anche qui ci vuole chiarire cosa ci vorrebbe perché l'AIFA cambiasse le regole della prescrizione. Il piano terapeutico cioè questo foglio che deve essere compilato ha un problema nel senso che il medico deve dichiarare di conoscere il filtrato glomerulare cioè la condizione dei reni del paziente perché sulla base di un esame che si fa con un prelievo di sangue il medico dovrebbe decidere che dosaggio dare chi può prenderlo e che dosaggio eventualmente dare quindi allora lei deve immaginare che questo farmaco deve essere usato in una persona che è positivo da non più di cinque giorni dobbiamo fare un prelievo dobbiamo avere quindi la persona positiva sì ma in America lo prescrivono diciamo io lo so molto bene perché ho degli amici che vivono negli Stati Uniti lo prescrivono se qualcuno è a rischio lo prescrivono subito e lo danno subito il problema è che se non cambia il piano terapeutico i medici non possono assumersi il rischio di dare questo farmaco quindi altro cambiamento in tempi rapidi allora e io in tempi rapidissimi adesso vi faccio vedere il punto di Paolo Pagliaro perché tra i tanti problemi che è il nostro paese c'è anche quello delle mafie allora martedì a Milano ci sarà un'importante manifestazione a sostegno del procuratore anti-andrangheta Nicola Gratteri che come sapete è un uomo libero è un uomo che da oltre 35 anni rischia la sua vita per battersi contro l'andrangheta guardate tempo fa ci fu una discussione tra le cosche calabresi e gli affiliati all'andrangheta distaccati in Sud America sull'opportunità di eliminare Nicola Gratteri procuratore di Catanzaro e cacciatore di narcotrafficanti stando alle intercettazioni che l'FBI ha messo a disposizione dei colleghi italiani l'attentato non si fece solo perché a Reggio e a Catanzaro lo giudicarono controproducente troppo chiasso si sa nuoce agli affari per Gratteri il sollievo deve essere stato molto relativo e in ogni caso l'intercettazione ha portato a un rafforzamento della scorta che accompagna il magistrato da 34 anni la prossima settimana martedì 5 luglio è in programma una manifestazione nazionale di solidarietà a Gratteri e a tutti coloro che rischiano la vita per combattere le mafie l'appuntamento è a Milano a partire dalle 19 in piazza Duca d'Aosta davanti alla stazione centrale a Milano perché è la Lombardia la regione in cui dopo la Calabria l'Andrangheta è più radicata sono in Lombardia le nuove roccaforti di un'organizzazione che investe nelle imprese e nella finanza i proventi della cocaina delle estorsioni dell'usura con lo slogan mai più stragi oltre 80 sigle della società civile si sono aggregate per ricordare che l'Andrangheta è un problema nazionale e che la lotta all'Andrangheta deve tornare ad essere un obiettivo prioritario della politica ma la politica quasi tutta tratta Gratteri come un appestato dicono i suoi molti estimatori che il procuratore è isolato perché è libero esattamente come Falcone e Borsellino la manifestazione si terrà a 30 anni dalle stragi di Capaci e via D'Amelio ma questa volta si è deciso di scendere in piazza il giorno prima allora grazie Marco Travaglio grazie professoressa Viola quindi bisogna fare la quarta dose chi lo può fare lo deve fare subito del vaccino ovviamente senza chiedere di strozzare il dottore ci vorrebbe un documento che ti dà il permesso e l'ho detto chiaro e forte questa sera la professoressa Viola grazie Massimo Giannini grazie Serena Dandini ricordo che è uscita la nuova versione del tuo ferite a morte pubblicato da Rizzoli ferite a morte dieci anni dopo e grazie Lucio Caracciolo ricordo che la prossima settimana sabato prossimo uscirà il nuovo numero di Limes dal titolo La guerra russo-americana e grazie spettatrici e spettatori questa è la nostra ultima puntata di questa stagione e vi devo dire un grande grazie perché grazie a voi anche quest'anno ci avete confermato come la trasmissione di approfondimento politico più vista della tv italiana e qualcuno te lo dovrà pur e no ma non ho finito ma ho subito finito perché poi devo dire un grande grazie ovviamente agli ospiti che mi accompagnano regolarmente ma soprattutto al mio coautore Marco Caparelli alla mia fantastica redazione a tutta la squadra la produzione il trucco parrucco la regia i ragazzi e le ragazze qui nello studio ecco sappiate che senza di loro io non ci starei e non ci sarei quindi buona estate noi ci rivediamo a settembre arrivederci arrivederci buonasera 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 Grazie a tutti.